19 novembre 1828 muore a soli 31 anni di febbre tifoide franz schubert nato nel 1797 a 11 anni lascia la famiglia per l'imperial regio convitto e viene accolto nella cappella reale come cantore negli anni del convitto inizia a comporre musica una passione che lo porterà nel giro di pochi anni a scrivere circa 500 composizioni grazie a una sorta di mecenatismo borghese schubert riuscirà a dedicarsi completamente alla propria arte pur senza avere un lavoro fisso riposa nel cimitero viennese di waring a pochi metri di distanza da beethoven che invita tanto a mirò ma che non incontrò mai